Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla rassegna stampa che come di consueto apre le nostre giornate, apre lo spazio informativo Affano TV, ben ritrovati per quella del sabato. Come sempre guarderemo i giornali nelle loro edizioni locali, sono tutti pronti, il messaggero, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Però partiamo dal santo del giorno che è Santa Emerenziana, Vergine e Martire. Il sole sorgerà fra pochi minuti alle 7.33 e tramonterà alle 17.06. E vediamo le previsioni del tempo, previsioni del tempo che partono da oggi, da sabato, e ci parte con un cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata, una copertura però in dissolvimento nella tarda mattinata e ci sarà cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni non si escludono, brevi e sporadici fenomeni anche lungo la costa nella prima parte della giornata. Vediamo domani, domenica, giornata importante qui per Affano perché c'è il primo corso mascherato e il cielo pare che sia anche benevolo perché è parzialmente nuvoloso e il transito è segnalato per qualche velatura però non dovrebbe esserci alcuna precipitazione. Vediamo lunedì, inizio della settimana, si presenta con una bella cartina a sole pieno, cielo sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione. E quindi insomma questo è per quanto riguarda il tempo. Passiamo ai giornali, iniziamo dalla pagina del Corriere Adriatico. Per quanto riguarda Fano, sempre alta la tensione per quanto riguarda la sanità. Interviene l'onorevole Lara Ricciatti che dice si tolga Fosso Segliore dalla discussione. L'onorevole Ricciatti ricorda le criticità del sito e le proteste, dubbi e domande anche sulla clinica privata. Il Consigliere regionale di Area Popolare interpella Ceriscioli sul finanziamento dell'ospedale unico. Poi va in tilti il sistema informatico per un'oretta, quindi alta affluenza aumenta il disagio, si blocca il laboratorio analisi e poi sulla presenza futura possibile del Cecchi a Fano è arrivato un no della burocrazia, però appunto Seri e Carloni insistono, niente trasferimento per ora. Continuiamo nelle pagine del Corriere Adriatico perché si parla di Carnevale. Il maestro partisticiere Cesani ha presentato il suo dolce come di consueto che è un tripudio di fanesitudine introdotto e riprodotto in ogni forma di cioccolato, i simboli della tradizione, cioè il brodetto, l'arco d'Augusto, il getto, insomma, Carnevale al via tra Goliardia e Dolci e oggi alle 16 c'è il palio degli uomini ignudi. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico si parla di sport, l'assessore del Bianco fa un bilancio e dice sono in sofferenza 43 impianti, il bilancio dell'assessore, dicono questi sono quelli che vanno rimessi in sesto, però occorrono nuova piscina e anche un nuovo palazzetto dello sport. E poi in testa di pagina c'è la cronaca, danneggia 14 auto, donna sorpresa e denunciata, è una cinese che soffre di un forte disagio, i carabinieri la segnalano naturalmente ai servizi sociali. Andiamo nella pagina di Pesaro del Corriere Adriatico che apre con la cronaca, è stata una notte difficile sul fronte dei furti a Pesaro, tabaccheria sventrata e depredata, il capo della banda del buco nella notte sono stati rubati bolli, grattini, singarette e soldi dalle slot per 50 mila euro. Vedete il buco fatto nella parete per entrare, insomma è tutta la tabaccheria devastata. Disperati naturalmente i proprietari, lunedì abbiamo dei pagamenti, quindi sono un po' preoccupati per questo, anzi più che preoccupati per la mancanza di liquidità, ma hanno messi allarme e telecamere che erano presenti all'interno della tabaccheria. È una notizia riportata anche in altri giornali, appunto la vediamo subito, andiamo nelle pagine del resto del Carlino proprio che riguarda Pesaro e questo episodio, una notte dopo l'altra di razzie, ripuliti tabaccherie, ristoranti, anche un distributore di benzina, vedete qui la proprietaria della tabaccheria nella foto e anche il distributore a fianco. Patrizia, la titolare, dice il negozio è azzerato, quindi nei prossimi giorni non riusciamo a lavorare, da non credere. Insomma tutti gli altri colpi, sono stati visitati gli uffici della PICA, l'Agenzia di Assicurazione di Vallefoglia, basket giovane in Biale Trieste e nel Milino anche la Fair Color a Morciola, rotta una vetrata, rubati motoseghe, poi trapani, martelli pneumatici, evitatori, insomma veramente una notte di razzie e di furti come titola il resto del Carlino. Però nelle pagine del resto del Carlino, sempre a fianco, sono due pagine appaiate, come vedete qui c'è ve lo segno, insomma il buco fatto dai ladri nella tabaccheria, che era la pagina insomma numero 3, questa è la 2, parla però il procuratore Palumbo, intervistato da Roberto Damiani, che dice il ladro sceglie l'Italia per arricchirsi, perché arresto, condanna, poi subito libero. Gli stranieri restano pochi anni, poi tornano nei loro paesi. Il rimedio, dice, l'unico è fare come fanno all'estero, dove non c'è il cumulo delle sentenze, lì per ogni fatto corrisponde una pena. E poi anche qui il caso della Zingara ha avuto mille condanne per furto, dando nomi diversi, nessuno l'ha mai messa in carcere, così lei continua indisturbata. Insomma, leggetti questa intervista al procuratore Palumbo, molto interessante, sulle pagine del resto del Carlino. Continuiamo sempre in quelle che riguardano Pesaro, perché si parla di Campanara, della Fiera, arriveranno dei privati, è in vendita, a fine mese il bando pubblico, poi l'affitto, e arriva la Bricofer. Verso le fusioni, la Camera di Commercio di Pesaro sarà unificata anche a quella di Ancona, comunque al di là di uno o due enti, questa è una decisione che è a prescindere sulle sorti della Fiera. La Camera di Commercio chiude un'epoca di spese insostenibili, perché si chiude entro giugno e rientrano così in cassa 500 mila euro. Andiamo nelle pagine del resto del Carlino. Di Fano, che apre con il Carnevale, con un evento che riguarda appunto questa edizione 2016 del Carnevale, che prende il via ufficialmente oggi pomeriggio, con una rievocazione storica, possiamo dire, una rievocazione storica che sta destando qualche lamentela da parte degli esponenti del gentil sesso. L'evento di oggi, che anticipa il Carnevale, è il giorno degli uomini nudi. Il Palio però scatena le femministe che dicono una goliardia inutile. La replica naturalmente è... E questa è una battaglia sbagliata, insomma, qui vedete il manifesto fatto da John Betti per proprio questo evento così rievocativo. Anche noi lo seguiremo con le nostre telecamere, anzi, noi seguiremo quasi tutto l'evento del Carnevale, essendo la televisione ufficiale del Carnevale di Fano. E quindi seguiremo anche questa corsa e vedremo come andrà a finire. Si parla ancora di bollette nelle pagine del resto del Carlino. Dopo quella di 5.000 passa euro, ne spunta un'altra di 10.000 euro. Però la Presidente Capodagli dice sono due casi completamente diversi. Poi Sanità, in testa di pagina. Sanità si riunisce il gruppo consigliare. Gennaio è un mese di scadenze. E il PD manda dire a Ceriscioli si ricordi dei lavori del Santa Croce che devono essere effettuati. E poi ancora nelle pagine che riguardano l'interno. Siamo a Mondolfo. Si parla di una residenza per anziani nel Corradorini. Questo è il nome della casa di riposo che viene affidata a una cooperativa per una commissione. Controllerà la gestione e quindi saranno attenzionati naturalmente nel loro operato. Vi faccio vedere l'ultima testata. Parliamo del messaggero, parliamo della pagina di apertura. Benelli è pronto a rinascere. Il Benelli, si parla dello stadio di Pesaro, appaltati i lavori di ristrutturazione. L'obiettivo è terminare tutto entro l'anno. Belloni, l'assessore, dice uno stimolo per chi vorrà investire anche nella visse, nella squadra di calcio. I tifosi vogliono dire la loro. Poi vedete il buco, la banda del buco che è entrato praticamente sfondando una parete, non soltanto in quella tabaccheria ma come abbiamo visto anche in altri posti. Nuovo ospedale, Ceriscioli incontra i sindaci duellanti. Naturalmente si riferisce a Ricci e Seri. Oggi riunione promossa dal PD con amministratore di centro-sinistra. Vediamo cosa dice anche Massimiliano Fazzini per il tempo che dice miglioramento in arrivo e quindi insomma c'è una buona prospettiva per il tempo, lo abbiamo anche visto nelle previsioni della protezione civile. Notte di razzie, anche qui evidenziata questa notte così difficile sul fronte della cronaca, dei furti nel Pesarese, in aziende e negozi, ha preso di mira la zona Montelabate, nella tabaccheria ha fatto un bottino di 50.000 euro, anche sventrati un bar a Padiglione e il ristorante Celù. Poi il procuratore Manfredi Palumbo dice imponità assoluta per i ladri stranieri, lo sfogo appunto di Palumbo dice grazie alle nostre leggi siamo il paese di Bengodi. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Fano, naturalmente per il messaggero, si parla di sanità, Santa Croce prima di tutto e poi il resto, il PD incassa le promesse sul rilancio dell'ospedale ma spinge anche sul nuovo. La cooperativa Gerico da 19 anni, un'officina di solidarietà, è un avversario importante e poi acqua da incubo, un'altra bolletta spunta da 10.000 euro, e questa volta è stata colpita una famiglia di San Lazzaro. Bene, questo era tutto per quanto riguardava la rassia in stampa di oggi di sabato, grazie per averci seguito sin qui, naturalmente Occhio ai giornali torna lunedì mattina alle 7.30, questa sera il telegiornale Occhio alla notizia, ma il nostro sito è sempre a vostra disposizione come la pagina Facebook per rimanere aggiornati in tempo reale. Grazie, buon fine settimana a tutti voi. Grazie, buon fine settimana a tutti.